Sabato 10 e domenica 11 ottobre si è tenuta nel comune di Bracigliano la quinta edizione del Forum dei Stati Generali delle Politiche Giovanili in provincia di Salerno. L'iniziativa promossa dal coordinamento provinciale dei Forum dei Giovani della provincia di Salerno in sinergia con il Forum dei Giovani della città di Bracigliano e con il supporto dell'amministrazione comunale ospitante, gode del patrocinio morale di Regione Campania, Provincia di Salerno, Forum Nazionale dei Giovani, Forum Regionale dei Giovani, Campania, Osservatorio Comunicazione e Partecipazione e Culture Giovanili, UNISA e delle sigle sindacali CGL, Cisle e Will, Salerno e la collaborazione dell'associazione Moby Dick e TS. Tra le principali novità dell'edizione di quest'anno il coinvolgimento delle sigle sindacali confederali CGL, Cisle e Will, Salerno, un'apertura inevitabile perché proprio il lavoro e le prospettive giovanili erano tra i temi principali di discussione della due giorni. Ad aprire la Kermesse e a dare il benvenuto a tutti i partecipanti i saluti istituzionali del primo cittadino di Bracigliano, Antonio Rescigno. A portare i saluti istituzionali, oltre a Carlo Conte del Forum regionale e a Francesco Piemonte, presidente dell'ETS Moby Dick, anche il consigliere provinciale delegato alle politiche giovanili Giovanni Guzzo, che ha ribadito l'ottimo risultato raggiunto dai forum salernitani all'interno della prima finestra del bando regionale Giovani in Comune, dove la provincia di Salerno è al primo posto con il 50% dei bandi finanziati. Al centro del dibattito, quest'anno, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Tra i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, in essa contenuti, sono stati selezionati per i partecipanti salernitani, i goals numero 8, buona occupazione e crescita economica, e numero 11, città e comunità sostenibili.